Ragazzi io non ho più parole per esprimere il mio disgusto per questo personaggio, si fa fotografare in treno, ora non so se notate una cosa, guardate qua in alto, lo vedete? Posto riservato per donne col passeggino, è un posto riservato per donne incinta, disabili, lo vedete qua in alto? E lui se ne fotte, perché io so io e voi non siete nulla, vi rendete conto che personaggio che ci governa? Questo è un ministro e non rispetta le più basilari regole di civiltà, ovvero quelle di sedersi in posti riservati a gente che ha più bisogno, ma lui io so io e voi non siete?